Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio di Serie B e della partita in programma domani allo Stadio Menti tra Vicenza e Pescara. In questi momenti sta iniziando la conferenza stampa dell'allenatore biancazzurro Gianluca Grassadonia, ma alcune anticipazioni io le chiedo subito al collega Massimo Profeta. Buon pomeriggio Massimo, non voglio farti perdere la conferenza stampa, dicci le cose principali. Speriamo di essere molto sintetici, insomma è chiaro che quella di la sconfitta con l'Ascola è stata una botta tremenda, sotto il profilo psicologico sarà una partita chiave, quella di domani a Vicenza inizio ore 14, arbitro Illuzzi di Molfetta per verificare la tenuta mentale e la capacità di reazione di questa squadra bisogna vincere. Domani a Vicenza per riaccendere le tenue speranze in chiave play out. Abbiamo abbozzato una formazione con l'ausilio della grafica, Grassadonia dovrebbe, perché sta per cominciare a parlare, conferenza pregare, la partita di domani ore 14, ripetiamo, dovrebbe tornare alla difesa a tre, ricordiamo Scognamiglio squalificato, Bocchetti, Tabanelli ancora in box, stessa cosa dicasi per Riccardi. Dunque da destra verso sinistra, davanti a Fiorillo Sorensen che torna al primo minuto, il rientro di Drudi e poi Gut nella posizione, se vogliamo, inedita di centrale e di sinistra. Poi Bellanova e Masciangelo sulle fasce, Rigoni non Busellato, potrebbe essere dato un turno di riposo a Busellato che ha giocato sempre nelle ultime partite, Rigoni l'ex di questa gara, tra l'altro Nicola Rigoni, il fratello Luca gioca con Vicenza e sarà un confronto interessante anche sotto questo profilo. Poi De Sena e Macin, altra mezzala, in avvantaggio su Maestro e Memussei, davanti, attenzione perché potrebbe essere la giornata, diciamo, l'impiego del primo minuto potrebbe esserci di setere, insieme con Odgar, dunque due prime punte di ruolo. Staremo a vedere, potrebbero essere queste le scelte, ma aspettiamo di ascoltare in conferenza stampa Grassanoia. Per quanto riguarda invece il Vicenza, il Vicenza è una squadra che in questo momento, diciamo, che occupa una posizione di classifica sicuramente molto più tranquilla. Ha vinto soltanto due gare al Menti, come il Pescara, questa è la curiosità. Il Pescara ha vinto solo due partite all'Adriatico, ma ha ben altra classifica. Le assenze nel Vicenza, Cinelli e Cappelletti per squalifica, infortunati dal Monte e da Riva. Rientra dal primo minuto Meggiorini, che ha saltato le ultime tre partite. È un attaccante che non ha bisogno di presentazioni, classe 85, ha già segnato dieci gol in questo campionato. Al suo fianco dovrebbe giocare, dovrebbe agire Lanzafame, che è uno dei volti nuovi del mercato di gennaio del Vicenza. Vicenza, lo ricordiamo, allenato da Domenico Di Carlo. Grazie a Massimo Profeta, ti lascio alla conferenza stampa di Grassadonia e poi ci aggiornerai nel corso dell'edizione delle 19.30. Buon lavoro a te.